Ciao creatura, ecco, niente, oggi brufolaccio, pre-ciclo, vabbè, voglio provare a fare un make-up di Halloween insieme a te, quindi con questo voiceover, e io userò quelli compretti che mi ha regalato la Steffi e il cerone, ok? Prima cosa, voglio mettere il cerone su tutto il volto, però, attenzione, è il cerone quello di carnevale, proprio quello, però, aspetta, aspetta, devo farmi la cosa prima, perché sennò mi sporco i capelli e appena ho fatto la tinta direi che non è il massimo sporcare così i capelli, quindi io premetto che non ho idea di che, adesso si va bene, non è premetto che non ho idea di che make-up andrò a fare, volevo fare una cosa horror, quindi è totalmente a ispirazione del momento, ecco, ho già sponcato i capelli, ma vabbè, dettagli, e quindi andiamo, vado a spalmare, non è un tutorial, perché è proprio un video così tranquillo, vado a spalmare il cerone bianco su tutto il volto, prima picchiettando, l'ho fatto in vari punti, adesso lo sto spalmando con le dita, ho usato il cerone perché non ho cipria, non ho fondotinta, non ho nessun tipo di trucco da mettere sul volto, quindi è l'unica, l'unico mio modo per avere una base chiara e appunto usarei questo cerone bianco che ce l'ho dal minuto 100, lo usavo per farmi fake painting quando ero giovane, comunque, vado quindi a, non ho più di blender, non ho spugnate varie con cui spalmare, l'ho fatto direttamente così, in libertà, con le dita, quindi lo spalmo sul naso, un po' su tutto il viso, e nel frattempo che lo spalmo sul viso, penso a che cosa andrò, a che trucco andrò a fare, ho fatto anche un pelo di Sam, e quindi sono concentrata anche nel pensare, volevo fare una specie di fantasma, ma, non so, vedremo più avanti che cosa ne uscirà, non ho idea neanche di che titolo mettere perché non ho idea neanche di che trucco sia venuto fuori, quindi se vuoi aiutarmi, se sei rimasto sveglio, sì, penso di sì, perché sono 15 minuti circa, anche meno di video, quindi se vuoi aiutarmi, e decidiamo insieme che make-up è, quindi andiamo a spalmare, adesso anche sulla fronte, vado a spalmare sulla fronte, così, e, insomma, ho evitato la zona occhi, perché lì ci metterò l'ombretto, e non voglio avere una base bianca sotto, e adesso sto sistemando un po', così, con le dita, cercando di renderlo una base sottile, qui, adesso sembra bianchissima, ma io davvero ne ho messo veramente poco filo, per dare questo effetto cadavere, tipo, fantasmoso, non so come definirla, adesso vado sulle tempie, andiamo anche un po' sotto tormento, guardo un po' anche sulla videocamera, ma io vado male a truccarmi sulla videocamera, cioè, guardando lo schermetto della videocamera, preferisco lo specchio, però, visto che è un video, allora ne approfitto ogni tanto, e cambio visuale, diciamo, insomma, dai, più o meno, non sto neanche venendo malissimo, e, cioè, premettono, non so, non so truccarmi, quindi questo non è decisamente un tutorial, poi, dico a cavolo, devo farlo anche su massimi, se ne frega, tanto metterò i capelli sopra, e anche se le orecchie restano rosa, tanto non si vedono, perché poi andrò con i capelli a coprire tutto, infatti non sono stata lì a fare neanche tanto bene, lì, stanno orecchie e guance, proprio, mascelle, via, comunque, e, sono a tempi, ecco, no, basette, eh, vabbè, comunque, alla fine decidi riprendere l'ombretto rosso e di andare per la carica con l'ombretto sugli occhi, l'ombretto rosso, 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 inizio così, non lo so, a spennellarlo sull'occhio, anche sotto, poi sfumo con le dita perché non mi riesce meglio, ho casualmente due pennellini che posso utilizzare, pennellini da make-up che però sono stati acquistati, se non ricordo male, ho solo l'Express, sono di quei siti cinesi in cui costa poco la roba, beh, sono abbastanza soddisfatta e quindi vado a fare anche l'altro occhio, faccio sempre rosso e cerco anche di sfumarlo un po' verso l'estremità qua, diciamo, verso l'interno, faccio un rosso più scuro e verso l'esterno dell'occhio, non so come spiegarlo, cerco di sfumarlo prendendo un po' di gerone bianco e cercando insomma di creare questa sfumatura un po' più lieve, bellissima, che faccio, che faccio, 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 vabbè, e niente, appunto con il rosso perché mi piace l'effetto e quindi cerco sempre di spalmarlo più che riesco e soprattutto è tutto molto random perché non avevo idea di cosa sarebbe uscito, perché non avevo idea di cosa avrei fatto, è stato proprio, mi sono fatta trasportare dall'ispirazione del momento e quindi qua sto cercando di decidere che colore prendere e alla fine opto per il grigio e prendo il grigio alla fine e non l'ho mostrato, non l'ho mostrato ma ho preso il grigio scuro e sembrava qualche nero e allora ho iniziato a metterlo sopra al rosso e lasciando però una parte esterna più rossa, non so se si capisce, comunque ho, diciamo che ho preso il grigio e l'ho messo sopra al rosso.